What you do in one hour in the morning, in the day it's three hours, mind is fresh, I do my laughter, the silence, meditation, then I start thinking and writing, all my ideas, creative ideas are in the morning. I feel that many people can do in the night better, but I feel that morning time is very different, so you should think about getting up early and then sleep early. I know that some people prefer the night, but I feel a lot more active in the morning and I prefer to wake up early and go to sleep early. Any questions? Allora, dunque, io ho pianto e riso tantissimo in questo primo mio festival della risata. I have laughter and I have a lot of tears also in this first congress. Dato che il cuore è proprio sopra il diaframma, che è quello che salta come un matto quando noi ridiamo, proprio che bascola tantissimo. Dato che io sono medico, quindi chiaramente tutta questa cosa mi entra dentro. Ho una disponibilità e una richiesta. La richiesta è, dato che noi europei siamo molto concentrati sul cogito ergo sum della testa. Cogito ergo sum. Io oggi ho imparato invece, amo ergo sum, il cuore, la coerenza cardiaca. Oggi, ciò che ho imparato è che mi amico, invece di pensare che io sono, mi amico che io sono. Quindi la supremazia del cuore, che diceva ieri Lara, che espande molto di più come elettromagnetismo della testa, no? Quindi il nostro cuore è come il cuore intelligente che decide lui, la Bibbia lo dice, che decide il cuore, non la testa. E vorrei dare come seconda cosa la disponibilità, appunto, sia dalla mia clinica che personalmente come ricerca scientifica per approfondire questa meravigliosa scientificità dell'Oriola della Risata in tutti i campi della medicina. Direzione�를 usl Für. Grazie a tutti. ... Tutti una ricerla in tutti i campi della ricerca nei cittadini dell'Oriola. Grazie a tutti. Un concetto a tutti. Ripetitordati laosta, uno dei nostriери, tutti due personaggi, livelli di Pagliari, la parola eroticaCome ENT, realised she allenate, Grazie.